Oltre all'emergenza sanitaria è in atto una crisi economica. Le ultime restrizioni hanno provocato delle ripercussioni su tutte le attività commerciali. L'aumento dei contagi fa tornare la preoccupazione di un altro lockdown che possa bloccare nuovamente il paese e di conseguenza il settore delle piccole imprese. Anche Fano, così come altre città italiane, sta vivendo un periodo difficile dettato dalla chiusura per Covid e dal calo della clientela. Sì, ha colpito tutti, anche a livello commerciale, come tutte le attività, colpisce a 360 gradi perché la gente è chiaramente meno incentivata comunque ad uscire e sapendo che comunque è tutto chiuso, quindi diventa un po' tutto buio e la città ne risente, non vanno neanche nei negozi sicuramente ad acquistare ma anche il potere d'acquisto è diminuito perché chiaramente poi chiudendo anche tante attività quindi tanti lavoratori che comunque sono a casa chiaramente stanno più attenti anche ad andare a spendere all'interno dei negozi. Quindi oltretutto dalle sei e mezza appunto della chiusura dei bar e ristoranti si vede proprio uno svuotamento del centro storico. Quindi anche noi quando sono le sette, sette e un quarto, potremmo sicuramente chiudere nel senso che comunque non c'è più gente che gira e quindi come Confcommercio mi sento di dire che il commercio sta soffrendo come tutte le altre attività. Per Confcommercio l'ultimo decreto deve essere rivisto. L'associazione di categoria ha richiesto anche più controlli per garantire maggiore sicurezza. La poca gente in città e la riduzione delle ore di luce potrebbero agevolare atti vandalici o furti come è avvenuto in Via Cavour nei giorni scorsi dove i ladri hanno preso di mira un negozio gastronomia di prodotti naturali. I malviventi hanno rubato il fondocassa per un ammontare di circa 500 euro ai quali vanno aggiunti i danni ingenti provocati all'infisso forzato con un arnese. Tra i commercianti c'è inoltre chi sottolinea il calo di fatturato e chi il ritorno alla paura. Durante il lockdown a primavera si è riscoperta un po' questa voglia di leggere e ancora così è continuata questa scia? Allora diciamo che fino a qualche settimana fa sì c'era ancora voglia, c'era ancora interesse, c'era ancora entusiasmo. Questa ultima settimana abbiamo visto invece molta preoccupazione, molta rabbia e quindi è diminuita anche la voglia di leggere perché ovviamente le persone pensano ad altro. Bisogna anche considerare che con il fatto che adesso alle 6 è tutto chiuso essendo qui in piazza ovviamente le persone non girano più e c'è moltissimo, c'è il fermo totale, il buio cala, le persone non escono più e c'è il silenzio. Quali sono i libri più richiesti? Allora, quest'estate fino a poco tempo fa erano libri di evasione. Sono andati tantissimo, per esempio per i bambini mi chiedevano spesso libri che facessero sorridere, ridere, non pensare diciamo, alleggerire la situazione. Adesso stanno ritornando libri sulla pandemia, infatti sulle nuove uscite ci sono di nuovo, addirittura nei gialli libri intitolati pandemia, l'ultimo uscito, quindi è ricominciato il giro della paura ovviamente e questo si rispecchia anche nei libri. Barbara, qua come stanno andando le vendite, qual è la situazione? La situazione è tragica, purtroppo con quello che ci stanno facendo, con quello che succede, in centro non c'è più nessuno, da dopo le 6 potremo tranquillamente chiudere insieme ai bar, non c'è più un'anima, non c'è nessuno, non c'è sicurezza, non c'è gente, non c'è consumo. Continuate anche a rinnovare i vostri prodotti per cercare di attirare clientela? Il regno è costante, come se non fosse successo niente, il sorriso ce lo mettiamo, ma se non abbiamo il cliente a chi lo facciamo vedere? Tutto questo, nessuno.